Consueto appuntamento di inizio mese con il direttore dell'Osservatorio Meteorologico Università Federico II. Professore, è tornata la pioggia? Effettivamente è tornata la pioggia anche in maniera intensa. Un'area depressionale posizionata sulle Sicilie ha tratto corrente umide di origine atlantica e ha determinato questo grande rovescio di pioggia che si è concentrato nella mattinata di oggi nella città di Palermo e che ha messo a dura prova la città. Questo tipo di pioggia potrebbe ancora interessare altre città, anche la città di Napoli, in quanto il suo viaggio verso est potrebbe interessare anche le zone tirreniche meridionali. Comunque, il 2 ottobre, quindi inizio mese, come sarà ottobre a Napoli? L'inizio del mese di ottobre sarà cartizzato come primissimi giorni da pioggia, poi ci sarà la formazione di un'area anticiclonica sul Mediterraneo che ci proteggerà dalle perturbazioni che arrino da Nord Atlantico e determineranno un lungo periodo di tempo mite e soleggiato. Ma possiamo dire che come una volta sono tornate le mezze stagioni, finalmente un ottobre come dovrebbe essere. Sono tornate le mezze stagioni e sono tornate soprattutto le famose ottobrate napoletane, caratterizzate da temperature notturne piuttosto basse e da temperature diurne molto alte. Grazie. 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 Grazie.